Musica Far incontrare l'esigenza di trovare un lavoro con l'esigenza di chi come azienda, come impresa ha bisogno di persone da assumere. E' questo l'obiettivo di Job Week, tre giorni organizzati da Confcommercio Lucca Massacarrara per mettere di fronte le aziende che hanno bisogno di trovare personale, soprattutto in questo periodo, soprattutto le imprese che lavorano nel settore turistico e nel settore del commercio. Aziende che hanno bisogno di incontrare persone con professionalità o anche che vogliono impegnarsi in un nuovo mondo e tante persone che si sono iscritte a questa tre giorni per andare a far conoscere quelle che sono le loro idee, quelle che sono le loro peculiarità, i loro curriculum vita. Job Week 21, 22, 23 marzo è un'opportunità sia per le aziende sia per le persone in cerca di lavoro. A questo è dedicata la puntata di oggi di Parola di Confcommercio. Tra le tante iniziative ce ne sono alcune di Confcommercio che vanno veramente a prendere le persone e ad avvicinarle a quello che è il mondo del lavoro. Oltre alla formazione, oltre a tutto quello che fate con i vostri associati, quest'anno l'iniziativa è Job Week, la maniera di fare incontrare le imprese che hanno bisogno di forza lavoro e di curriculum di persone che possano servire al loro mestiere e le persone che tuttora sono in cerca di lavoro, oltretutto dopo un periodo di pandemia che ha veramente creato tanti problemi anche da questo punto di vista. Sì, questa è stata un'idea portata avanti dal mondo Confcommercio con i nostri settori e devo dire che sta dando ottimi risultati perché 80 aziende stanno partecipando, aziende che comunque sono ormai alla ricerca di nuovi collaboratori perché comunque si va verso una stagione si va verso una stagione che si prevede vada bene, funzioni bene perché alla fine di un Covid e purtroppo con la guerra è chiaro abbiamo delle difficoltà che tutti diciamo leggiamo, ma questo credo che sia stata un'idea ottima che è stata portata avanti dal mondo Confcommercio le nostre persone che seguono ormai da mesi, da anni questo tipo di lavoro, quindi il dottor Luca Dini, la dottoressa Carnicelli Martina che seguono ormai da diverso tempo questo, stanno facendo dialogare impresa e diciamo persone giovani e meno giovani che cercano comunque diciamo dei nuovi posti di lavoro. Oggi parte questa diciamo realtà, sono giorni che noi stiamo raccogliendo adesioni da parte del mondo dell'imprenditoria e da giovani o anche meno giovani e oggi parte qui su Lucca con l'ausilio anche con l'aiuto del centro dell'impiego, oggi abbiamo anche un punto di riferimento del comune di Lucca domani saremo in Versilia, dopodomani a Massa Carrara, quindi questo credo che sia un intervento doveroso come Confcommercio per cercare di dare risposta al mondo del lavoro o diciamo dell'offerta del mondo di lavoro ma anche la domanda che viene fatta alle aziende. Siamo con Luca Dini, uno dei responsabili di Confcommercio che si è occupato di questa iniziativa, ne avevamo parlato in sede di presentazione non erano ancora arrivate tutte le adesioni, oggi vediamo invece un'importante risposta sia dal mondo delle imprese che hanno bisogno di conoscere, di mettere nei loro archivi dei curriculum vita, sia delle persone che sono in cerca di un'occupazione e di migliorare la loro posizione. Sì, ci siamo visti agli albori quando c'era anche magari un po' di preoccupazione sul fatto di poter raggiungere i numeri importanti invece così è stato perché abbiamo circa 80 aziende e abbiamo avuto meno contatti con circa 200 candidati poi non tutti magari sono potuti presentare fisicamente qui però insomma abbiamo avuto dei numeri importanti da gestire quindi siamo molto soddisfatti, speriamo che sia ovviamente anche utile perché qui non si ferma il nostro lavoro nel senso che ora la parte successiva sarà anche monitorare quanti contratti vengono fuori da questi incontri per capire l'effettiva utilità di questa giornata. C'è un altro aspetto, di solito quando si fanno gli incontri a questo periodo della stagione siamo proprio all'inizio di primavera, si parla di ambito turistico o si parla di commercio ma nella realtà è un'iniziativa a 360 gradi per tutti i vostri associati. Esatto, infatti ci sono anche aziende che cercano persone, aziende del mondo dei servizi anche il commercio, il turismo come dicevi te è quello principale perché poi soprattutto nei nostri territori Massa e Viareggio, chiaramente lì da predominante sono alberghi e ristoranti che cercano personale per la stagione. Devo dire la verità che le aziende hanno risposto in maniera importante nonostante anche il momento difficile perché al di là dell'emergenza pandemica ora purtroppo c'è l'emergenza dei costi di questi aumenti che ci sono di tutti i costi, delle bollette in particolare e quindi insomma anche questo poteva frenare qualcuno invece abbiamo visto che la risposta è importante e adesso cercano personale che noi speriamo di avergli fatto incontrare in questi tre giorni. Siamo con la dottoressa Carnicelli che si è occupata di un aspetto importante di questa iniziativa quella di raccogliere da una parte le esigenze delle aziende e dall'altra verificare i curriculum vita di chi si è iscritto incrociarli e metterli di fronte a un tavolo per cercare di far sì che le esigenze si incontrino e che tutti escano soddisfatti da questo incontro. Sì, proprio questo, la nostra iniziativa voleva proprio che le aziende e le persone che venivano a fare i colloqui rimanessero soddisfatti dell'iniziativa quindi è stato complicato perché abbiamo avuto tanti candidati, tanti curriculum quindi fare l'incrocio delle varie aziende con i vari curriculum è stato un bel lavoro però ci siamo riusciti, siamo soddisfatti vediamo che le persone sono soddisfatte per cui è stata una bella iniziativa, siamo contenti. Un'iniziativa che ha raccolto tanta adesione al punto che già si parla di farla diventare istituzionalizzata perché? Perché c'è un'esigenza da parte delle aziende associate di ConfCommercio ma c'è anche un mondo del lavoro delle persone che soprattutto a causa della pandemia hanno perso il lavoro vogliono migliorare la loro posizione quindi un'idea che si riproporrà anche in futuro oggi lavorate su Lucca, Via Reggio e Massa Carrara ma già si parla di fare un'iniziativa del genere anche in Garfagnano. Esattamente, abbiamo visto che è proprio un'iniziativa che crea un'esigenza sia da parte dell'azienda che da parte del candidato e quindi sì, sicuramente faremo, ripeteremo e moltiplicheremo, diciamo così, sì. Job Week 2022, una iniziativa che in questa fase, in questo periodo aiuta soprattutto le aziende del settore turismo e commercio ma anche le aziende di servizi. Siamo con Samantha Cecchi dell'Agenzia Generale che partecipa a questi incontri di Job Week ha già incontrato diverse persone un'iniziativa importante che aiuta da tutte e due le parti sia chi cerca che chi ha bisogno di lavorare. Sicuramente, perché è un momento particolare dove c'è la necessità di trovare persone per allargare i nostri organici e avere un evento del genere sicuramente di aiuto per interfacciarsi con chi cerca lavoro e noi che lo offriamo quindi fondamentalmente un'iniziativa vincente che spero mi porti a allargare le mie risorse di lavoro. Oltretutto c'è già un lavoro a monte sono già state fatte incrociare le esigenze di un'azienda con le esigenze di chi ha bisogno di trovare lavoro. Che tipo di persone hai incontrato questa mattina? Quanto bisogno c'è di lavorare? Sicuramente c'è la volontà di mettersi in gioco quindi queste persone che si sono rivolte a noi sono persone che hanno voglia di fare anche un lavoro particolare come il nostro dove c'è l'esigenza sicuramente di formarsi dove c'è l'esigenza di mettersi in relazione con le persone con i clienti, con le persone che dobbiamo incontrare. Sicuramente sono tutte persone laureate nel nostro caso che cercano uno sbocco professionale e anche futuro. Marco Bucchignani oggi ha partecipato per il ristorante L'Angolo Tondo al primo giorno di Job Week 2022 ha incontrato i candidati che possono ricoprire il ruolo di cui è in cerca volevo un commento a questa iniziativa e capire se da parte delle imprese che sono tantissime e quindi significa che l'offerta di lavoro c'è c'è una prospettiva di miglioramento di quello che riguarda il gruppo di lavoro? Onestamente spero di sì spero di sì i colloqui che ho avuto stamattina con alcune persone qualcosa di interessante si è presentato forse chi si presenta non ha ben chiaro quale sia poi l'esigenza dell'impresa con cui deve andare a lavorare su questo bisogna sicuramente lavorare un po' meglio forse come comunicazione forse anche come noi aziende far capire meglio qual è la figura che cerchiamo perché non si perda tempo né noi né chi viene è inutile che venga il meccanico e ha bisogno del barista o vada dal meccanico e ci vada dal barista vero, bisogna imparare, bisogna far tutto ma ci sono anche delle priorità nelle attività commerciali qualsiasi tipo di attività commerciale Con questo termine il nostro approfondimento parola di Confcommercio da Palazzo Sani l'incontro fra la domanda e l'offerta fra le imprese che hanno bisogno di personale per ampliare la propria forza lavoro e persone che sono in cerca di una possibilità che sono in cerca di un momento per mettersi in gioco e per guardare al loro futuro nel mondo del lavoro è tutto per questa puntata ci vediamo la prossima settimana